Cari amici di Omeopatia in Piazza, siamo qui come nell'intervista precedente a Roma al convegno Biotipology e abbiamo l'organizzatore, il dottor Gino Santini, che è anche segretario nazionale SIOMI, società italiana di medicina omeopatica integrata e direttore scientifico dell'ISMO Istituto di Studi di Medicina Omeopatica. Buongiorno al dottor Santini e grazie a questa intervista. Per quale motivo i suoi pazienti si rivolgono alla medicina omeopatica? Semplicemente perché non risolvono i loro problemi. Quindi i pazienti che hanno patologie anche non impegnative, come può essere magari un problema di blanda allergia, un leggero mal di testa, una piccola colite. Il problema è che queste situazioni si ripetono tantissime volte all'unità di un paziente, rendendogli una qualità di vita pessima e non risolvono con l'approccio convenzionale che è un approccio per lo più sintomatico. Quindi io più che andare a gestire una colite, devo fare in modo che il paziente non sia più un paziente colitico, che è una considerazione diversa. Da questo punto di vista i pazienti hanno cominciato a capire la differenza, soprattutto considerando che se c'è una problematica acuta io non ho nessun problema a gestirla con farmaci convenzionali. Non è quella la sfida dell'omeopatia. L'omeopatia è quello di mantenere lo stato di benessere ed evitare che ci si presenti una situazione di cronicità. Grazie. Possiamo affermare che l'approccio omeopatico sia sicuro e privo di effetti collaterali? Sì e no. Nel senso sicuro, inteso come mancanza di effetti collaterali classici della medicina convenzionale, credo di sì perché ci spostiamo in una situazione ultraponderale. Quindi le ultradosi non hanno più molecole, quindi non c'è più la necessità che ha l'organismo di andare a gestire un'interazione molecolare. Però non è detto che non ci siano effetti collaterali in senso stretto. Gli aggravamenti omeopatici sono quando noi indoviniamo magari il rimedio giusto, ma lo diamo ad una potenza sbagliata e quindi operiamo nella maniera non corretta creando un problema del paziente che vede una recrudescenza dei propri sintomi. E' vero che possiamo affermare che non esistono prove scientifiche per quanto riguarda l'omeopatia? Sicuramente non lo possiamo affermare. Le prove scientifiche sono di due tipi. Noi abbiamo prove cliniche, quindi prove che noi abbiamo degli effetti e delle risposte cliniche superiori al placebo e abbiamo prove su sistemi biologici. Quindi abbiamo studi in vitro, studi su animali, e quindi abbiamo tutta una serie di modificazioni assolutamente indotte da animali omeopatici ad una concentrazione, tra l'altro sicuramente oltre avvocato, quindi siamo oltre alla patitica 12CH, tutta la quale le molecole spariscono per dimissione. E quindi mi sento di dire che le persone che non prendono in considerazione questi articoli, questi lavori, perché sono fatti male, perché a modo loro non hanno una spiegazione esauriente di quello che è il meccanismo. Il meccanismo purtroppo non lo conosciamo. Noi possiamo solamente fare una valutazione su quello che accade, per esempio in un studio con doppio cieco, quindi verso placebo, quindi mettendo a confronto due soluzioni, una totalmente inerte e una con una soluzione omeopatica. Bene, allora in generale si dice che l'omeopatia è la medicina dei bambini, ma gli anziani possono trarne beneficio? Allora, premessa, l'omeopatia che cosa dovrebbe fare nell'organismo? Dovrebbe riattivare dei meccanismi di equilibrio di omeostasi che sono già presenti nella persona stessa. Quindi noi ci troviamo da un lato, per esempio, la medicina omeopatica pediatrica che ha il massimo della potenza di un metabolismo, della vitalità di un individuo. E dall'altro estremo della vita un paziente anziano che però molto spesso deve ricorrere ad una terapia sostitutiva di una funzione biologica persa. In questi casi l'omeopatia è veramente difficile da attivare. Ha un ottimo campo di azione nell'evitare gli effetti collaterali delle terapie che purtroppo gli anziani sono spesso costretti ad avere. Questo sì. Allora, dottor Santini, la ringraziamo, le facciamo i complimenti per il convegno che come tutti gli anni ha una partecipazione nutrita e dei contenuti veramente interessanti. Grazie a voi. Ringraziamo, approfittiamo anche per ringraziare la Siomi per l'appoggio che ha dato al progetto come tante altre associazioni e istituzioni del mondo ambientale. Perfetto, ringrazio a voi.